Un'onda emotiva di cordoglio unanime, quella che ha accompagnato da domenica mattina la notizia della scomparsa di Monsignor Pietro Bottaccioli, Vescovo Emerito di Gubbio, all'età di 88 anni. Una partecipazione di fedeli praticamente ininterrotta alla chiesa di San Giovanni, dove è stata allestita la camera ardente dopo che il Vescovo Ceccobelli aveva ufficiato una prima celebrazione alla cappella del seminario dove si è spento Bottaccioli. E il Vescovo ai nostri microfoni ha affidato il suo ricordo dopo 12 anni in cui ha avuto a fianco colui che lo aveva preceduto nella diocesi di Ubaldo. Era un uomo con il quale si viveva bene, io ho vissuto i miei 12 anni con lui e sono veramente grato per quella compagnia che mi ha fatto, proprio con quello stile eugubino, ricorderete il giorno del mio ingresso consegnandomi il pastorale e mi disse adesso sei tu a portare il cero io ti posso fare eventualmente il bracere e lui mi è stato vicino in questi anni proprio come il bracere sostiene colui che porta il cero. Pietro continuerà ad accompagnare con la protezione che oggi può esercitare in maniera molto più potente direi di quando era qui in mezzo a noi e poi ci lascia un'opera monumentale che solo lui poteva compiere, quella storia della chiesa della diocesi di Gubbio che lui ha scritto in cinque anni con una passione e un amore straordinari. Pietro ha inserito la nostra piccola storia che si capisce solo dentro la grande storia e quindi ci lascia un'opera formidabile che ci aiuterà anche a ricordarlo lungo il corso dei secoli. Dal mondo ecclesiastico a quello istituzionale sono stati molteplici e incessanti gli interventi per significare i sentimenti di cordoglio legati alla scomparsa di Bottaccioli, figura stimata e apprezzata a prescindere dai legami di fede. È stato il cardinale, arcivescovo di Perugia e presidente della conferenza episcopale Umbra Gualtiero Bassetti, oggi assente per impegni in Vaticano, unitamente agli altri vescovi delle altre diocesi della regione, tra i primi a esprimere profonda commozione e sincera ammirazione per questo stimato uomo della Chiesa che visse con fedeltà il suo lungo e fecondo sacerdozio ed episcopato in terra ugubina. La stessa presidente della regione Marini ha ricordato come la comunità regionale, religiosa e laica pianga un vescovo sempre attento agli ultimi, un vescovo di popolo che ci ha illuminato con il suo agire e le sue parole, con la sua levatura intellettuale e la sua unanimità. La sua attenzione verso le questioni sociali, la sua vicinanza e le sostegno ai lavoratori in difficoltà, prosegue la governatrice nella sua nota, un'attenzione per le esigenze della comunità ecclesiastica, ma è disgiunte da quelle della società civile, come proposte in occasione del giubileo del 2000. Non è mancato l'intervento del sindaco di Gubbio Stirati, che ha parlato di perdita grave, religiosa e laica insieme per la comunità eugubina. È un altro pezzo importante di storia che se ne va, scrive Stirati, ma ci lascia il ricordo presente del suo apostolato, della sua umanità, del suo profondo legame con la città, della generosità e della simpatia che lo contraddistinguevano. Anche l'ex sindaco Goracci ha voluto ricordarlo, non dimenticando nei dieci anni di guida amministrativa le distanze ideologiche, ma il dialogo sempre collaborativo tra le parti. Il presidente del Consiglio Comunale Gubbino Biancarelli, nel ricordarlo, ha rimandato al prossimo Consiglio Comunale un momento ufficiale di ricordo da parte della massima assise cittadina. E così anche il parlamentare umbertidese, ex sindaco Giulietti, l'amministrazione di Umbertide, le acli del territorio gubino-gualdese, l'associazione Gubini nel mondo, che ha ripostato sul proprio sito la splendida omelia recitata da Monsignor Bottaccioli sul col di lana, ricordando il centenario dei ceri, che proprio quest'anno sarà celebrato. Così come la comunità di Costacciaro, che ricorda l'11 luglio 2012, giorno di San Benedetto, quando l'emerito 84enne Claudi Cante scessa ancora una volta nella grotta di Montecucco per concelebrare la messa del patrono degli speleologi, dichiarando sorridendo che difficilmente ci sarebbe stata una prossima volta. E poi la gente, gli Gubini e non solo loro, chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, incontrarlo o anche solo di salutarlo, non potrà mai dimenticare il suo sorriso paterno e una sincera e rassicurante parola di conforto, di sostegno e di fede.